La categoria verrà giudicata come un campionato Giro al trotto uno per uno e poi tutti e due insieme saranno in standing La categoria verrà giudicata come un campo 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 Unica Stars e Magic Sinzias Adesso tra pochissimo avremo la classifica Intanto ve le presento unica stars da Sultan GK per Unique Stars Di proprietà elevata da Arabian Stars di Massimiliano Rocchino E Magic Sinzias La categoria verrà giudicata come un campo 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 E quindi abbiamo il risultato per questa classe 17 Filly Falls, ringraziamo nel frattempo lo sponsor Demas Group Foschi che ha sponsorizzato questa classe e la medaglia d'argento va a Unica Stars, la medaglia d'oro Magic Sinzias. Io invito in campo e do il buongiorno al dottor Francesco Santoro vicepresidente dell'Anica che effettuerà la premiazione a queste due giovanissime femmine. E quindi l'argento va a Unica Stars, da Sultan GK per Unique Stars. Complimenti all'allevatore e proprietario Arabian Stars di Massimiliano Rocchino. Foto di rito con il vicepresidente Anica che ringraziamo di essere qua, il dottor Francesco Santoro. E quindi la medaglia d'oro invece per Magic Sinzias. E Jay Nuan per Magic Elea. Complimenti di nuovo a Fontanella Magic Arabians, allevatore e proprietario. Grazie a tutti. E adesso tra pochissimo proseguiremo con la classe 18. 8. 8. 8. 9. 11. Grazie a tutti.